Una seconda stella la diamo ad un personaggio su cui abbiamo anche scritto un articolo perché la storia della famiglia è una storia incredibile, è una storia di sacrifici, di continuità, di forza e di volontà, di sveglia alle 4 del mattino e per tornare a dormire la notte il giorno dopo, l'una e due del mattino, di svegliarsi e andare avanti così per tanti anni per costruire un progetto, un sogno che adesso è un gruppo e la nostra stella va al gruppo Inventa e c'è Emanuele Iemolo con noi. Sempre a favore di telecamere anche questa consegna di due persone che si incontrano, due comunque imprenditori, uno che è legato anche alla comunicazione internazionale, nasce un'amicizia e nasce anche questa serata. Buonasera a tutti, io sono lusingato, emozionato di essere qui presente in questo gala che veramente è una bella serata, una serata all'insegna dell'amicizia, all'insegna della riscoperta dei tesori d'Italia. Quando Riccardo è venuto a trovarmi a Pozzallo nella mia sede ci siamo messi a chiacchierare del più o del meno e della mia storia vissuta. 40 anni di vita, di tanti sacrifici, di tanta passione che questo mi ha portato a un percorso che oggi veramente mi dà la forza ancora di andare avanti, mi dà molte soddisfazioni. Oggi siamo presenti anche a livello internazionale, facciamo dei bei lavori e siamo orgogliosi di essere un'azienda che produce e che dà lavoro a molte persone e questa sera, sei mesi fa quando ho conosciuto Riccardo ho trovato un grande tesoro che è Riccardo e il suo team. Un abbraccio, una buona serata a tutti e grazie di tutto. Grazie.